Antonello Quagliate, Shuto Mezzagua, avete vinto questo derby, ve l'aspettavate? Qual è stata la prima cosa che ha pensato il presidente quando è arrivato il fischio finale? Quando è arrivato il fischio finale ho pensato subito alla festa che dobbiamo organizzare. Festeggerete? Questa sera, questa sera festeggiamo tutti insieme. Shuta, hai giocato bene, ti aspettavi di giocare così? Sì, però io pensavo che sabato ancora non è abbastanza bene, ancora non è abbastanza. Io posso giocare, io posso migliorare, possiamo migliorare noi. Peccato però che ha sbagliato quell'occasione davanti al Borriello. Beh, si è trovato di fronte un gran portiere, si avrebbe fatto anche gol sabato. una ciliegina sulla torta. Shuta, qual è stato il giocatore che ha festeggiato di più a fine partita? Io penso Sanino, Michele Sanino. Presidente, siete una squadra che dà il meglio nelle partite secche, però dovreste fare di più nel corso del campionato. Avete alcuni passaggi a vuoto? No, vabbè, dobbiamo migliorare fuori casa. In casa, bene o male, i risultati ci stanno. Fuori casa è un punto solo in casa dell'Albano comunque. Cercheremo di migliorare fuori casa. Già dammi in turno? Speriamo, ci sono tante assenze, manca ancora Luca Tramontano, manca Rasannino, Cerrotta. La lista è lunga, anche perché loro stanno facendo mercato. Sei andato anche in altre nazioni, fuori dall'Italia, fuori dal Giappone? Per esempio in Canada sei andato, ho saputo? Sì, sono andato a Canada, anche a Thailand. Thailandia? Thailandia, sì, Thailandia. Sciuta, ti ha di fare un saluto ai nostri telespettatori nella tua lingua? Ok, va bene. Nipone, io e voi, grazie a tutti, veramente, grazie a tutti. Sì, grazie a tutti, 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 a tutti. Sì, grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti.